Una forte scossa di terremoto ha colpito la capitale alle 17.13. Un sisma di magnitudo 3,5 della scala Richter con epicentro nella zona dei Colli Albani ha fatto tremare i romani e gli abitanti della zona di Frascati e Grottaferrata. La gente impaurita è scesa in strada, all'Euro molte persone hanno lasciato gli uffici. Sesse scene anche in zona casilina dove la gente ha preferito lasciare la propria abitazione. Subito dopo la scossa è partito il tam tam sui social network con segnalazioni di piccoli disagi nella zona dell'epicentro tra i comuni di Monte Compatri, Colonna e Monteporzio Catone. Al momento la protezione civile fa sapere che non sono ufficialmente segnalati danni a cose o persone.